Dai 5 Stelle sì al dialogo con le altre forze politiche, intanto Grillo rivendica il movimento è nato per cambiare il paese. Claudia Mazzola. Archiviata la partita sulle presidenze, con Fico che stamattina arriva a Montecitorio in autobus, i 5 Stelle lavorano a quella per il governo. Siamo riusciti a far partire questa legislatura con l'elezione di un presidente della Camera come Roberto Fico, il cui primo obiettivo sarà quello di tagliare gli odiosi privilegi della Camera dei Deputati. Questo dimostra che il cambiamento che hanno chiesto i cittadini col voto del 4 marzo è già in atto e ora passeremo a cercare di creare un governo nel Movimento 5 Stelle, un governo finalmente dei cittadini italiani. Pronti a governare con chi vuole fare cose buone per l'Italia, ripete Di Maio, per ora tutte le porte restano aperte, insomma un dialogo col PD è possibile, ma l'accordo sulle presidenze, portato a casa col centro-destra, ha dimostrato che Salvini è uno che mantiene le promesse, hanno ripetuto da Grillo al capo politico. E stamattina l'apprezzamento sul leader del carroccio arriva dalla Raggi, bene Salvini, che intende conferire più poteri a Roma Capitale. Ma una parte della base mal digerisce il tandem col centro-destra, soprattutto con Forza Italia. Il Movimento rilancia sui temi abbassamento delle tasse, misure per imprese e famiglie, meno sul reddito di cittadinanza. Grillo in tribunale ad Aversa per il caso di un ex attivista espulso che per protesta si è presentato con una mela simbolo per lui della prima mela marcia dell'M5S. Il Movimento è nato per cambiare il paese, non per lucro, ha detto Grillo davanti ai giudici. Non consento a nessuno di rovinare una cosa bella.